Secondo il virologo Roberto Burioni è tempo di agire contro la zanzara tigre, potenziale vettore del virus dengue. Mentre in Italia i casi erano in gran parte importati, infatti l'anno scorso nel nostro paese abbiamo registrato 82 casi autoctoni. Il rischio è reale, l'infezione potrebbe diventare endemica, la situazione attualmente è critica in Brasile e in altri paesi del mondo e dunque l'Italia deve prepararsi. La zanzara tigre è già qui e senza una terapia specifica, un vaccino efficace, dice lo scienziato, prevenire la loro proliferazione è cruciale. Dobbiamo agire subito e con determinazione per evitare problemi nei mesi estivi, avvertito Burioni.